Il quarto concorrente della mattinata è Micheli Federico, Nazione Italia, cittadinanza italiana tedesca, anni 23. Eseguirà nell'ordine, bar, grave e fuga dalla seconda sonata in A minore. Di Pizzer dà lo studio numero 18, variazioni allegro, andantino, energico, dalla tecnica superiore del violino, con arcate e viteggiature originali. Sivori, studio capriccio numero 11, per violino solo, dai 12 studi capricci, opera 25, revisione di Fuglio Luciani. Mozart, concerto in A maggiore, KV219, terzo movimento e cadenza di Joachim. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.